Una meta originale per le festività con un viaggio nella storia della musica dei Beatles si trova in via Albertario nella zona industriale di Bellocchiafano il museo della batteria inaugurato domenica 12 settembre a realizzarlo Daniele Carboni che già dalla fine degli anni 90 ha iniziato a collezionare questi strumenti in giro per il mondo una vera passione trasformata oggi in un museo unico in Italia Vediamo batterie che venivano utilizzate dai complessi più famosi della seconda metà del Novecento quante sono e di chi erano? Sono esposto a 25 batterie diciamo che la mia collezione si diversifica un po' dalle altre perché in Italia non sono solo a collezionare batterie appunto anche se per il momento sono stato il primo a averla resa pubblica la cosa quindi visitabile si diversifica appunto dal fatto che sono batterie appartenute prevalentemente alle band rock mi sono dedicato negli anni a questo tipo di ricerca e restaurare appunto queste batterie quindi partiamo dai Beatles ai Rolling Stone piuttosto che agli Who c'è la batteria di Young Pace dei Deep Purple, John Bonham dei Led Zeppelin e tante altre Si tratta di batterie originali? Sì, sono tutte batterie originali nel senso che sono le gemelle come mi piace definirle di quelle appartenute appunto ai più grandi batteristi rock e non solo degli ultimi 60 anni nelle finiture, nelle misure, nei colori e nel suono Gli al museo non vige la regola guardare ma non toccare anzi è possibile provarle e suonare oltre ad ammirare tanti altri cimeli Sì, abbiamo poi una serie, una pannellatura appunto dedicata a tutti i pedali i pedali della Gran Cassa che anche quelli hanno diciamo una storia quindi il 1909 venne inventato il primo pedale dai fratelli Ludwig per poi passare agli anni 30, 40, 50 fino ad arrivare agli anni 80 diciamo che io mi fermo perché poi la collezione va dagli anni 20 agli anni 80 E quando rimane aperta? Rimane aperta tutti i sabati e domenica dalle 16 alle 20 poi su prenotazione per gruppi siamo disposti anche a aprire anche gli altri giorni oltretutto chi viene al museo, i nostri maestri possono fare delle viste guidate quindi spiegare a tutti come è la storia della batteria dalla nascita fino agli anni 80 appunto spiegando un po' tutte le band che le hanno suonate le finiture, i modelli e i suoni più che altro perché abbiamo ascoltato queste batterie appunto negli ultimi 50 anni nei dischi più famosi mai usciti Simone non solo strumenti musicali ma anche iniziative Sì abbiamo parecchie iniziative ogni sabato diciamo sera facciamo dei concerti live e quindi apriamo al pubblico chiaramente bisogna essere tesserati per entrare in questo circolo e facciamo esibire dei gruppi più o meno giovani per tutti insomma E qui c'è anche una scuola della musica? Sì abbiamo una scuola tra le varie iniziative oltre che allo studio di registrazione abbiamo anche una piccola scuola di batteria tra cui anche io sono un maestro che ne faccio parte e cerchiamo appunto di portare più giovani possibili a questo strumento insomma avvicinarsi a questo strumento Grazie a tutti